I sapori e le tradizioni della Toscana e della Sicilia si incontrano a Lucca, in piazza San Frediano, e ne viene fuori il settimo miracolo di Santa Zita. Stiamo parlando dell'ultimo biscotto sfornato dal caffè di Michele Tambellini, la cui ricetta evoca un nuovo valore simbolico, un ponte ideale tra la città delle Mura e Modica, piccolo centro della Sicilia ragusana famosa al mondo per l'arte del cioccolato. Il nuovo prodotto è stato ideato dal maestro pasticcere Pierpaolo Ruta, titolare dell'antica dolceria Bonaiuto, a Modica dal 1880, e la più longeva fabbrica di cioccolato in Sicilia, ancora in attività. A presentare la novità, come ormai consuetudine, dal 2017 in occasione della ricorrenza del 27 aprile, è stato il padrone di casa Tambellini, insieme al pasticcere Matteo Mazzoni. Sì, miracolo numero 7, per la prima volta siamo andati fuori dalla Toscana con la collaborazione di Pierpaolo Ruta, che ho avuto il piacere di conoscere tramite un amico, dopo che svariate volte io, proprio da cliente, sono stato lì da loro. Prosegue la nostra avventura con grande passione, siamo molto contenti che i nostri biscotti appunto sono apprezzati e avanti così. L'ultima produzione dolciaria del Santa Zita è dedicata alla Camellia della Lucchesia. Ma in realtà abbiamo cercato di portare quello che sono le caratteristiche dei nostri dolci, e quindi abbiamo utilizzato sia la mandorla, che è molto presente nel dolce siciliano, e sia il cioccolato, che per noi è praticamente qualcosa che ti scorre nelle vene, soprattutto a Modica.